Benvenuti nella città di Bari per la nostra tradizionale rubrica siamo tutti alla canna poi ognuno è alla canna che vuole però siamo tutti alla canna e siamo oggi a andare alla lans con il nostro amico Frank detto l'americano Frank detto l'americano altrimenti si chiamava Franco o franchino detto il barese invece Frank e quindi l'americano o ciccio dipende ma invece è Frank non peraltro New York City United States of America oh yes and do you speak English? yes I know e come faccio ne ha chiamato Frank l'americano? speak Italian, speak Barbecan, ok allora my question is this perché ti chiamano l'americano se non parli nemmeno l'inglese perché c'è un motivo e non è che si può dire dai ti prego fidati di me e fai coming out sono stati in America aspetta è stato in America quanto tempo fa? più di 50 anni fa e quanto tempo ci sei rimasto? poco un mese e beh è un mese in America io sono stato tre volte in America sono stato due mesi in tutti in America cioè ti è rimasto proprio si dico ma ti è rimasto proprio nel cervello io avevo uno studio fotografico Frank American a Carrasse do you remember? I remember do you remember? I remember quando ero giovane era un'istituzione su Carrasse ti lo capì a Mark Hort però un po' meno ti chiamo l'americano così per Prision niente di concreto ok avevi questo studio fotografico da quanto tempo non fotografi più? no sono più di dieci anni che non fotografi più? chiuso lo studio venduto tutto e buonanotte ai suonatori e inoltre che chiudo lo studio e poi fai a nero le bagutelle e tanti lo fanno la bagutella a Bari è la città delle bagutelle alzi le mani e ti hanno chiamato Frank Frank ti prego Frank vieni vieni come on come on Frank for the Sponsalitz no no niente ok oh yes ora tu sei qui alla canna io sto alla canna diciamo che ma è del gas? no scusa io sono uno che già aveva un defibrillatore due anni fa c'era Caronte già con la barca per portarmi dall'altra sponda e tu ci sei fatto proprio il segno e io ci sono detto a Caronte fermi io sono un drogato la mia droga è il mare il mare è una droga gratis stai vicino al mare prendi pesce o non prendi pesce il fatto stesso di stare vicino al mare è una droga gratis è di una serenità unica può sembrare una frase fatta però è questo io dico sempre io sono un soccorritore io sono un volontario della Comen le donne operate al seno io dico sempre a chi ha problemi la positività è sempre il sorriso sono due elementi fondamentali di cura che servono la ricetta di Frank la ricetta ora alla fine dopo le presentazioni siamo arrivati alla domanda per cui io sono qua siamo tutti alla canna Mattu te lo dico in americano posso? proviamo a capirci allora io ieri ho perso un pesce ma che è venuto a galla no si è rotto il fino però l'ho sentito sino a 50 centimetri poi sul più bello tac questo qua l'ho preso oh 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 e che tipo di pesceologia è questo? allora questo è un orata è un orata un orata è un gauche una mormora una mormora e cosa mormora? due saraghi e mormora perché si muove e questi li hai presi tutti in un giorno da qua? sì di là più di là più di là che di qua sì e boh sto calando qua e io ho messo il centimetro perché il pescatore un pesce di due chin io invece porto il bilancino e lo pesi lo peso faccio vedere la fotografia la misura del resto sei drogato di mare porta il bilancino questo è oltre questo è oltre e non è che qua stiamo a pettinare a tiro freddo e questa è tutta la storia ma li consumi tu per te stesso? da casa poi li regalo pure però il fatto stesso di venire qua ti rilassa ti fa stare bene io sono andato a prendere una scatola di coreane che sono i vermi che uso io fumavo fumavo due pacchetti al giorno io risparmio più di 300 euro di sigarette al mese spendo ogni tanto due scatola una scatola non me ne frego più di tanto assolutamente niente purtroppo è così la vita è unica la vita va presa molte volte la gente si fa tanti di quei problemi dei soldi delle cose si muore la vita va goduta vivete dovete vivere la vita come viene la mattina quando ci svegliamo segno della croce oggi ci siamo svegliati perché Cristo ha voluto così per chi crede per chi non crede la stessa cosa lezioni di vita lezioni di vita tu vuoi fare l'americano vuoi fare l'americano a Bari da 50 anni per un mese a New York ti hanno etichettato Frank l'americano per ora e solo per ora con questa saggezza che sta scomparendo e quasi tutto speriamo di vederti pescare qualcosa ma qui vieni proprio qui a pescare si pensa veramente si si da che sacco da che sacco i piombi ma l'ho cambiato questo ho messo questo di 70 eh questo questo è quello perché quelli di 60 ce lo fai un lancio lo fai un lancio per noi occhio a occhio si occhio a Tino faccia vuoto se lo colpisci poi già sta messo malissimo capito ce lo colpisce è finito però dovete mettere un canocchiato se no non ho riuscito a vedere dove va quanto riesci a mandarlo lontano guardalo Tino cerca di guardarlo sei pure contro vai vai oh madonna dei pescatori di Capurso quasi vicino alla ruota panoramica alla ruota si hai visto io direi che forse è arrivato al palazzo della provincia al palazzo della provincia è arrivato l'orologio della provincia l'altro giorno l'ho agganciato all'orologio al ecco perché si è spezzato il filo perché è agganciato all'orologio io ti vorrei invitare a vedere come lavora di lui di mulinello Frank guarda eh ok Tino noi restiamo qui ad aspettare che Frank prenda qualche pesce oggi mangiamo zuppa offerta gentilmente da Frank l'americano l'unico Frank l'americano che non parla l'americano ma è stato in America un mese 50 anni fa capito tipo